Il prodotto della musica in una testa di un fotografico è molto rapido. L'idea, adesso noi abbiamo bisogno di esplicitabilità, l'idea è l'asterizzazione. Però era un muscolare che produceva i moduli, non era sempre perfettamente abbondato. E questo è il fatto che questo momento, oggi non lo conoscesse, per esempio, che si tratta di questi moduli, che si tratta di questi moduli, che si tratta di un'altra, che si tratta di un'altra, se non avessi mai avuto un'interno, se avessi avuto un altro, poi avessi avuto un carico profondo, nel secondo il numero successivo... E' una vera per il suo sviluppo di diversa vera. Sì, lo conosci. Oltanto questa mostra, un mare innovativa, giusto qui a Milano, è molto particolare quello che noi affettiamo oggi alle un'arte. Sì, nella mostra che ha mostrato, quindi è più importante, perché, non abbiamo cinque, se non abbiamo bisogno di un'altra, o ovviamente la stessa modulazione. Però, sulle macchine, come ad esempio, oltre le altre, le altre, le altre macchine, ci sono le esclusive. Quindi, le macchine, si sono da dire solo quattro. Vi ringraziamo innanzitutto, per questa opportunità.